Sono benvenuti soprattutto agli ospiti americani, desidero rivolgere il mio indirizzo di saluto e quello della città ai delegati sindacali dell'International Brotherhood of Electrical Workers, al sindacato della Cisla nazionale, la FLAI, Federazione dei lavoratori elettrici nazionale della Cisla e la Cisla di Padova e Rovino. Un saluto particolare lo voglio riservare ai Vigili del Fuoco e ai lavoratori elettrici di New York, oggi qui fortemente rappresentati, che hanno pianto a tanti loro compagni di lavoro autentici eroi che si sono sacrificati nel crollo delle torri gemelle. Ci troviamo qui, in questo luogo, dalla forte valenza simbolica perché proprio qui, sopra le nostre teste, c'è un pezzo di New York, una trave del World Trade Center contorta dal calore del rogo in cui persero la vita circa 3.000 innocenti. Sono passati 12 anni, eppure non sbiadiscono nella nostra memoria le scene di orrore che con il fatto sospeso abbiamo seguito in credoli davanti alle TV di tutto il mondo. Non sbiadiscono i ricordi dello sgomento a difficoltà di comprendere il senso di ciò che stava accadendo davanti ai nostri occhi e a quelli di milioni di persone. Capimmo però che quella tragedia avrebbe riguardato, riguardava e riguarda tutti noi. È per questa ragione, per non lasciar sbiadire quei ricordi di dolore che questa strave, resa deforme dal calore del rogo, è stata collocata qui, nel cuore di Padre. Come un monito, come la pagina aperta di un grande libro che racconta il percorso faticoso verso la libertà. Si ricorda che nessuno di noi può sentirsi al riparo dall'odio reso cieco dal fanatismo, poiché il terrorismo colpisce non solo gli uomini liberi, le città, ma anche la convivenza, la crescita civile, il benessere delle famiglie, il sogno di libertà a cui ogni persona aspira. Probabilmente non a caso i terroristi scelsero la città di New York, era ed è la città in cui si incrociano culture, religioni, tradizioni diverse che convivono insieme rispettandosi, contaminandosi e migliorandosi. Provo grande ammirazione per gli elettrici di New York, per i pompieri, i primi che con il loro coraggio a reagire immediatamente con la forza della solidarietà all'odio generato dal terrorismo. L'ammirazione di tutti coloro che assistentero al crollo delle torri va a tutti i soccoritori che eroicamente si sacrificarono nell'estremo tentativo di sottrarre alla morte quante più persone possibili. In memoria di quegli eroi e di quelle vittime innocenti abbiamo scelto di ospitare qui a Padua questo monumento. Perché il vostro dolore è stato ed è il nostro dolore. Ed un attacco a New York è un attacco anche a tutte le città libere, in cui i cittadini liberi credono nella fratellanza dei popoli. Credo che il senso di questa cerimonia stia tutto nel termine Brotherhood, fratellanza. Siamo qui a ricordarci che gli italiani e gli americani sono popoli fratelli, che milioni di italiani partirono dall'Italia per costruire oltreoceano il proprio sogno americano. Alcuni di questi hanno segnato in positivo la storia d'America. Penso a Fiorello Laguardia, a Rudolf Giuliani che ha guidato New York in quei giorni difficili. L'Italia e gli Stati Uniti sono fratelli di sangue e nel sangue. L'Italia non potrà mai dimenticare il debito di gratitudine che ha nei confronti degli alleati. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando la vita civile democratica in Europa era messa in pericolo dai totalitarismi, dall'America sono partiti migliaia di giovani e moltissimi purtroppo non sono più tornati, sacrificando il bene più prezioso per aiutare noi italiani. Questa fratellanza si è tradotta poi nell'impegno del piano Marshall e continua nell'amicizia e nella collaborazione tra lavoratori, di cui ringrazio la CISLE per la magnifica iniziativa di oggi. Vi ringrazio di essere venuti qui, in questa città che ha voluto fortemente questo monumento. Benvenuti a Padre, città gemellata con Boston da oltre 30 anni. Questo monumento forse ci autorizza a dire, quando raccontiamo la nostra solidarietà con il popolo americano, anch'io sono un New Yorkese. I am a New Yorker avanti della scuola che si tratta di un giallo dell'evozio a tutti. Chi hanno lasciato la sua vita a a septembre 11, 2001, a scuola del cinema della ciuzione. Nesta città di uno di sua prensi di euro del mondo, a gente che per il popolo, di loro estaban per la nostra città di un numero 1212, a Geralt Coppola. Steven Jacobson Robert Patterson Isaiah Rivera From local union number three, Thomas Ashton James M Cartier Robert Caulfield Joseph D. Pilato Salvatore A. Fumafredo Harvey Herma Ralph M. Lashardi Michael W. Lowe Charles P. Lucania Lester V. Marino Jose F. Martinez Jr. Joseph Romangolo Anthony Seguera Jeffrey J. Shaw Steven R. Strauss Glenn J. Travis Senior Kenneth W. White God bless Italy God bless America Thank you Thank you Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.